Dono la parola a M. Rinaldi per due minuti. Il consenso politico c'è tutto, c'è anche la base giuridica e non c'è nulla nella nostra risoluzione che infranga il principio di sussidiarietà. E soprattutto c'è un problema, perché i cittadini, cittadini abitanti dell'Unione Europea che sono sulla strada, sono sempre di più e sono probabilmente quelli più difficili da raggiungere per i nostri strumenti di democrazia partecipata. Gli Stati membri hanno la principale responsabilità, ma abbiamo una grande cacofonia da parte degli Stati membri. Abbiamo quelli che fanno un'assistenza per tutti, quelli che fanno un'assistenza soltanto per i cittadini dell'Unione Europea, quelli che aiutano soltanto quelli del proprio Paese. Abbiamo Stati membri che discriminano, se non criminalizzano, le persone che vivono per la strada, altri dove abbiamo dei comportamenti molto diversi regione per regione. C'è sicuramente un lavoro da fare da parte della Commissione Europea. Abbiamo sentito già fondi europei che sono disponibili, buone pratiche che ci sono, delle buone notizie, delle cose che possiamo diffondere e poi la mappatura del problema. Ma è possibile che nell'Unione Europea, dove Eurostat ci fornisce le statistiche su qualsiasi cosa, non abbiamo ancora un'idea precisa dei contorni di questo problema, né abbiamo dei criteri di definizioni che possono essere comuni. Per questo io, signor Commissario, credo che voi dovete velocemente approntare questa strategia. Se riusciamo a dare un segnale e a cominciare un lavoro verso questi abitanti e questi cittadini dell'Unione Europea, che sono quelli più lontani dalle istituzioni europee, credo che faremo un buon passo anche per riguadagnare la fiducia in quella crisi di rapporto tra tutti i cittadini e le istituzioni europee. Grazie, signor Rinaldi.